Presidente, lei ha detto crescita, crescita, ci sono dei progetti, dei programmi concreti? A me sembra che stia cambiando il clima in Europa e dobbiamo lavorare in questa direzione. Per troppo tempo l'Europa è stata percepita soltanto come luogo di una austerity, priva di speranza, prive di sviluppi, priva di occasioni di crescita. Mi sembra che sia stato importante l'appuntamento di oggi a Parigi. Le cose che interessano i cittadini sono che ci siano più posti di lavoro, più infrastruttura all'altezza, un'Europa che parli di conoscenza, di ricerca, di innovazione e non soltanto di debiti, finanza e banche. Ecco, noi stiamo cercando di trasformare l'Europa e di farla tornare a essere quella che deve essere, un qualcosa che aiuta i cittadini a stare meglio. La Commissione Juncker vuole lavorare in questa direzione, c'è stata un autorevole conferma quando Juncker è venuto a Roma, oggi il Partito Socialista Europeo e i socialisti democratici di tutta Europa hanno dato un bel segnale in questa direzione, quindi sono ottimista e contento. Sul vertice che vi attende a Bruxelles con la Turchia, c'è stato un passo avanti da parte vostra? Una alla volta, per carità, intanto portiamo a casa questo risultato. La crescita italiana, sono in arrivo misure per la produttività, per i salari di produttività? In realtà già ci sono nella legge di stabilità, anche se non sono state considerate a dovere dal dibattito pubblico, anche politico, non soltanto dalla stampa. Molte delle misure, alcune delle quali sono quelle che ha segnalato oggi il sottosegretario Nannicini, già stavano in legge di stabilità, hanno bisogno di decreti attuativi, stiamo andando in questa direzione. Il fatto che ci siano delle misure come per esempio il superammortamento al 140% porta proprio con un risultato molto semplice, avete visto in queste ultime ore il dato della produzione industriale più 1,9% è il più alto degli ultimi anni. Tuttavia c'è ancora moltissimo da fare. Io dico che se ce la mettiamo tutta, se ci impegniamo, se sblocchiamo le opere pubbliche bloccate come la Salerno Reggio Calabria, per fare un esempio, ma con tutte le altre, finalmente si rimette in moto il meccanismo dell'economia e torna a crescere anche il nostro paese. Noi siamo passati da 40 a 20 miliardi di investimenti. Vi rendete conto cosa significa ridurre della metà gli investimenti? Negli anni dell'austerity, negli anni dei governi precedenti. Da 40 a 20 miliardi, la follia. Contemporaneamente abbiamo fatto una spending, come giusto che sia, di 25 miliardi ma è chiaro che tutto questo ha prodotto un rallentamento delle misure di crescita e dell'economia quindi alla luce di tutto questo, quello che per me è importante è che finalmente l'economia in Italia abbia una ripresa stabile e duratura e andiamo in questa direzione. Le misure sulla produttività aiutano in questo senso. Grazie, ci vediamo. L'idea dei socialisti e democratici europei è quella di organizzare il prossimo appuntamento a Roma credo che sia un fatto positivo ma insomma c'è tempo per parlarne perché sarà dopo il referendum inglese per cui adesso lavorare concretamente a creare le proposte perché finalmente l'Europa si occupi un pochino più dei giovani e dei posti di lavoro e un pochino meno delle questioni di cui abbiamo visto occuparsi molto spesso, troppo spesso in quest'ultimo periodo. Con il vostro permesso io adesso stopperei le domande anche perché fa freddo. Arrivederci, baci e abbracci. Grazie.